In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Questo video è per presentarvi un libretto che ho scritto. Ebbene sì, nella mia vita ho scritto soltanto questo libretto, nell'autunno scorso, che è stato stampato nel febbraio del 2020, quindi pochi mesi fa, e si intitola Appunti, voi lo leggete al contrario, Appunti sul discernimento delle rivelazioni private. Ecco, è un libro che non è molto lungo, è di cento pagine, è scritto con caratteri molto chiari. Perché ho scritto un libro? Perché mi sono trovato l'anno scorso, con tante idee per la testa, riguardanti appunto un problema. Il problema di come porsi nei confronti di tutti quei messaggi, di tutti quei leggenti, di tutte quelle persone che hanno esperienze mistiche e con cui abbiamo quotidianamente a che fare, specialmente noi sacerdoti, ma vedo che anche voi laici, siete spesso a contatto con queste esperienze. A volte voi stessi andate a cercarle in internet, nei siti, oppure scaricate messaggi di altre persone. A volte avete voi stessi delle esperienze mistiche, ma non sapete valutarle, porle nel giusto contesto. Quindi si può dire che in questi ultimi decenni queste esperienze si sono moltiplicate. Ecco, si sono moltiplicate e purtroppo, purtroppo, che cosa è successo? Da una parte si sono moltiplicate queste esperienze difficili da discernere. Sono frutto dell'ispirazione di Dio? Sono frutto di un inganno del demonio? Sono frutto della fantasia di una persona? Sono da tenere in considerazione sempre, quando, mai? Ecco, i problemi sono veramente tanti. Purtroppo molte persone scaricano o seguono indiscriminatamente qualsiasi genere di messaggio solo perché sembra buono. Ma non è così. È chiaro che nell'inganno o della fantasia o dal demonio le cose devono sembrare bene. Bisogna avere un'attenzione particolare e avere dei criteri. Mentre, dicevo, questi fenomeni sono aumentati tantissimo, dall'altra parte è venuta meno l'assistenza dei pastori perché dovrebbero essere loro, prima di tutto i Vescovi, che hanno la grazia di Stato. Cos'è la grazia di Stato? Quella grazia che loro hanno ricevuto nel Sacramento dell'Ordine, specialmente i Vescovi hanno la pienezza di questo Sacramento, avrebbero dovuto fare da guardiani, da custodi della fede in mezzo al popolo di Dio. Però è successo che cosa? Che o hanno negato completamente, a priori, questo aspetto della vita cristiana, riducendo la fede a un fatto materiale di questa terra, dove non è possibile l'intervento della grazia di Dio in questi termini, quindi hanno negato questi fenomeni, riducendoli a pura fantasia, oppure spiegandoli con delle categorie tratte dalla psicanalisi, così. oppure si sono indiscriminatamente appoggiati, avvicinati a movimenti senza svolgere il loro ruolo specifico di pastori. Quindi hanno rinunciato, ecco, avendo rinunciato alla loro missione, il popolo di Dio è rimasto senza aiuti da questo punto di vista e ognuno si è arrangiato da sé. Ci sono persone che vivono sulle rivelazioni private seguendo qualsiasi genere di messaggio, solo perché sembra. Ma l'aspetto esteriore è chiaro che è buono, diversamente non ci cascherebbe nessuno. Ecco, quindi dobbiamo veramente noi arrangiarci a questo punto. Non abbiamo l'aiuto dei pastori che davanti a Dio hanno questa responsabilità, ma ci sono dei criteri. E io in 38 anni di sacerdozio sono passato dallo scetticismo completo nel quale ero stato educato in seminario. Scetticismo vuole dire che è impossibile che questi fenomeni possano essere veri alle soglie del terzo millennio. Ecco. E dallo scetticismo sono passato invece addirittura alla credulità piena, perché quando si arriva da un eccesso si passa a quello opposto. Ma poi nella vita pastorale ho dovuto ricredermi e chiedermi quali sono i criteri per discernere la bontà di un'esperienza mistica dall'altra. Ed ecco che ho dovuto approfondire l'argomento. L'anno scorso queste idee erano pronte e ho sentito l'esigenza di scriverle per me. A volte ho scritto qualcosa sull'argomento nel mio profilo di Facebook, ma a un certo punto ho detto se sono utili per me potrebbero essere utili anche per i fedeli che si trovano privi di orientamenti su questi argomenti. Per i fedeli e per qualche sacerdote che volesse finalmente prendere in mano la situazione per guidare bene le anime. Noi abbiamo una responsabilità sulle anime ed è su questa responsabilità che mi sono interrogato a fondo negli anni del mio sacerdozio fino ad arrivare a queste note. Sono appunti, non è un manuale tipo il manuale del bravo, del perfetto scopritore di inganni. No, non è un manuale, sono appunti che mi sento di fissare per iscritto prima di tutto per me, per la mia missione ma che potrebbero essere utili per altri anche per i mistici stessi perché i mistici non devono dare per scontato tutto, anche le loro esperienze. Un mistico dovrebbe mettersi sotto la guida di un bravo sacerdote e lo so che non ce ne sono perlomeno dovrebbero conoscere bene meglio almeno i criteri del discernimento. Ecco, questo sì per i mistici, per i sacerdoti e per i fedeli che quotidianamente si trovano bombardati da messaggi di questo tipo cerchiamo di vederci più chiaro allora c'è questo libretto che si divide in tre parti io l'ho diviso in tre parti all'inizio erano veramente appunti sparsi ma ho dato una parvenza di sistematicità e la prima parte sono le fondamenta cosa dobbiamo conoscere per discernere bene si può andare in internet a guardare qualsiasi messaggio senza avere una base una base di partenza qual è la base di partenza? questi messaggi andranno pure confrontati con qualcosa per capire se sono buoni oppure no la base di partenza quindi le fondamenta si intitola la prima parte la seconda parte è proprio il discernimento come deve avvenire il discernimento quali criteri ecco sono riuscito a mettere insieme in questi anni poi l'ultima parte che è la terza sono le conclusioni le conclusioni sono vediamo di concludere come dobbiamo discernere nell'epoca che stiamo vivendo che sono gli ultimi tempi un'epoca che è particolarmente illuminata da una rivelazione qual è la rivelazione più importante della nostra epoca? è Fatima quella è centrale non si può esimersi dal passare attraverso questa rivelazione che illumina tutte le altre rivelazioni di questa epoca quindi ci sono le conclusioni nella terza parte bene io non avrei altro da aggiungere ecco chi è interessato lo può richiedere ecco questo è buona lettura mi pare io quando l'ho visto scusate quando l'ho visto la prima volta mi sono stupito mi è piaciuto tantissimo sembrerebbe una cosa scontata non avevo questa certezza perché è la prima volta che scrivo un libro però è scritto in maniera talmente discorsiva proprio di getto come le cose le avevo in mente che mi pare che si possa leggere altrettanto bene possa essere fruttuoso secondo me è non un punto finale di arrivo no cioè uno strumento che può servire per andare oltre perché ognuno di voi potrebbe aggiungere dati dalla sua esperienza metterli insieme a questi e andare oltre in questo cammino di discernimento tenendo sempre presente che senza lo Spirito Santo la preghiera e la Vergine Maria che è diciamo quella che ci guida nella selva oscura di questa terra ecco senza questo aiuto dall'alto nessuno può mettersi a discernere niente tenuto conto di questo che è ben scritto anche nel libro questi sono principi che non dovrebbero essere sottovalutati a questi aggiungete anche la vostra esperienza e vedrete che qualcosa di meglio potrà risultare sia lodato Gesù Cristo in nome dei Patri e dei Fili e Spiritus Santi Amen